Allora, sono in questa situazione, cioè sono nella partenza del video precedente, dove avevo visto la corrispondenza dei risultati col P2, naturalmente a questo punto io, ecco, dal video sarebbe comodo poi trovare questi angoli qui, adesso ci penserò, perché oggettivamente sarebbe interessante, va bene che uno si ricava, però posso ricavarli anch'io tranquillamente, dovrò modificare un attimino il foglio elettronico in modo da far risultare questi angoli qui. Va bene, però, adesso a questo punto, invece di portare il P2 a 30, mettiamo il P1, dunque facciamo 30, a questo punto, questo però lo portiamo a 0, ok, che è sempre interessante, 0, la forza qui, P3 è 0, le reazioni vincolari sono queste qua, queste qua, ok, a questo punto, a questo punto mi serve sapere e proviamo qui, dunque devo spostare quello là giù, e adesso vediamo come fa, perché sinceramente non lo so, adesso provo, qui io tolgo questo che non mi interessa, poi con la botella vado su e giù, e poi col tasto, se primo il tasto centrale del mouse lo sposto, anche col CTRL e tasto centrale del mouse, però basta il tasto centrale lo sposto, poi mi allargo un attimo, adesso a questo punto, a questo punto il problema è spostare questo punto qui, ok, dunque devo andare a provare a modificare questo, questo punto, ok, questo punto qua però io, questo qua mi conviene cancellarlo, io direi, e rifarlo, perché poi il problema è che, come faccio a sapere che è qui, dunque io cancellerei questo e questo qui, e lo rifacciamo, a questo punto andiamo a crearci un punto, e questo punto qui, lo facciamo da qui, ok, lo mettiamo qua e facciamo ESC, ecco, se noi mettiamo un punto qui, la differenza è notevole, questo io non posso caricare nessuna forza qui, questo qua è un punto fuori dal linkage, non è collegato, almeno che si possa in qualche modo collegarlo, ma non credo, e dunque vado a cancellarlo, la differenza è aperto a questo punto, mi rimane solo questo, però io vorrei sapere, dunque vado qui e vado a modificarlo, facciamolo a distanza, il problema sarebbe, cartesian coordinates, dunque dovrebbe essere 20, perfetto, mi va bene 20, lo mettiamo a 20, ok, perché ce l'ho qui, vediamo se si può modificare, mettiamo 25, no, non si possono modificare, ok, un peccato, un peccato perché, ah posso anche metterlo dal punto 2, e posso solo modificare questo, è un peccato, qui dovrebbero dare la possibilità di poterlo modificare, va bene, comunque, è 20, mi va bene, x è 20, io lo misuro su 20, ok, adesso andiamo a mettergli la forza, che metteremo la forza, così, facciamo di 30 che va giù, sono a posto, ok, inbound poi qui io, non so cosa sia, devo andarlo a scoprire, pensavo giù e su, però, va bene, ah, ok, va bene, così, questo, so così, ma non cambia niente, va bene, adesso, a questo punto vado a vedere qui, ok, dunque, ho questa qui di, viene di 10, 20, né, e questa di 31,62, adesso andiamo a cliccare qui, qui naturalmente abbiamo detto la, il P1, lì è A, 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 A di 20, 20, a questo punto abbiamo 10, come è lì, 10, e abbiamo 31,62, 3, perfetto, perfetto, see you next time, va bene, ci vediamo alla prossima.